un caro saluto da mario giuliacci il tempo previsto nei prossimi 10 giorni all'incirca fino al 12 di marzo la primavera appena iniziata ma parte con una veste invernale infatti nei prossimi giorni avremo 20 gelidi da balcane fino tra il 3 e l'8 di marzo 20 gelidi balcani quale non solo porteranno freddo su gran parte dell'italia ma porteranno anche piogge e nevicate fino a quote molto molto bassa 300 600 metri potrebbe esserci qualche nevicata anche in pianura sul piemonte poi seguirà una fase meno fredda perché arriverà corrente nord atlantica quindi si fredde ma mitigate dal percorso sull'atlantico e comunque farà ancora freddino allora in questo periodo ci saranno tre perturbazioni due in arrivo dalla spagna piuttosto debole le quali però agevoleranno con la loro bassa pressione risucchio di aria gelida da balcane la prima perturbazione tra il 3 e il 6 di marzo piogge su piemonte liguria emilia centro sud e isole maggiori la seconda perturbazione tra il 7 e il 9 di marzo piogge su emilia piemonte liguria e centro sud e la terza perturbazione che arriva questa volta dalla francia tra il 10 e 12 di di marzo piogge su quasi tutto il centro nord per quanto riguarda gli accumuli previsti in termini di pioggia questa mappa vi fa vedere che gli a come saranno notevoli sul piemonte su emilia marche abruzzo e molise accumuli intorno 40 80 milioni di pioggia insomma qualcosa per quanto riguarda la siccità cominciamo a vedere in positivo per quanto riguarda la nevicate nevicherà quasi tutti i giorni anche se non saranno nevicate singolarmente importanti ma tra il 4 e 9 di marzo nevicherà sull'emilia romagna marca abruzzo molise campania morge persino alle morge lucane a calabria fino a quote tra i 300 e 600 metri il 7 di marzo nevicherà sulle alpi sulle miglia romagna toscana e umbria e lazio e infine il 10 11 di marzo nevicherà su piemonte lombardia fino a quote di 200 300 metri gli accumuli previsti in termini di neve la potete vedere in questa immagine dove appunto le nevicate sono riportate in pollici come dicevo vorreste moltiplicare per 2,5 non proprio 3 le gelate ci saranno sì il 5 marzo su emilia interno del centro il 6 7 9 10 su gran parte del centro nord gelato al mattino 20 forti il 5 6 7 8 9 su gran parte dell'italia le temperature in calo su tutta l'italia come mostrano questi i modelli queste linee sono i principali modelli vi fanno vedere sono concorde nel prevedere un calo delle temperature fino all 8 di marzo quindi vive freddo in aumento fino all'otto poi in risalita tra il 9 e il 12 ma sempre freddo farà